Vado a fare sta spesa, devo prendere un po' di carne, prima di me un po' di persone, c'era una simpatica nonina, una signora, una anziana, una vecchia, insomma che è in fila, dice al macellaio con la sua tipica voce latina, perché il dialetto leccese deriva dal latino, una cosa di cui andiamo molto curiosa, e gli dice, la dico in dialetto, dice scusa giovane tieni fegato, che significa scusa illustre il macellaio, per caso lei possiede del fegato, il macellaio gli dice alla signora, la vecchina gli dice sì, allora leccamela. E' andata così, sono rimasto un po' stranito pure io, gli era leccata, però dopo gli ha dato anche il fegato effettivamente, arriva il turno mio, volevo anche io del fegato la verità, però poi non so perché ho cambiato idea, e gli ho chiesto quindi, hai salsiccia? Prima che mi rispondessi, io gli ho chiesto anche se avesse del salame, perché ci sta bene, e mi ha detto sì, alla salsiccia, e riguardo il salame mi ha detto, vuoi che te lo affetto, perché ti sembra un salvatanaglio? E aveva la salsiccia, comunque era molto buona, abbiamo cenato benissimo, abbiamo messo un po' di senape, maionese alla fine, e niente, poi sono tornato al lavoro, perché credo che è meglio se rimango qua.